Come è morto Matthew Perry? Molte persone si stanno domandando cosa sia successo alla star di Friends, l'interprete di Chandler Bing trovato morto nella sua casa di Los Angeles dentro la Yacuzzi. Non è un segreto che l'attore abbia combattuto da anni contro una dipendenza da droghe ed alcol e che però ne sia uscito comunque vincitore. Molti sospettavano che la causa della morte di Matthew Perry sia dovuta appunto ad un eccesso di droghe ed alcol ma dalle ultime analisi dell'autopsia non sembra sia stato così. Non è stata un overdose di fentanyl o di metanfetamine ad uccidere Matthew Perry soprattutto perché le analisi post mortem hanno dimostrato il contrario in quanto nel corpo dell'attore non c'era traccia di nessuna di queste sostanze. Fonti vicine alla polizia e alle forze dell'ordine che si stanno occupando del caso hanno escluso per il momento questa causa di morte. In attesa di ulteriori analisi che si avranno tra i quattro e i sei mesi la morte di Matthew Perry per il momento è ancora avvolta nell'ombra soprattutto perché ci sono molte cose che in tanti stanno riscontrando essere strani. Sappiamo che la mattina del 28 ottobre giorno della sua morte Matthew stava giocando a pinkelball un mix tra tennis e puddle e che in casa appunto non sono state riscontrate tracce di metanfetamina o di altre droghe. Però sono stati ritrovati antidepressivi e diversi medicinali per l'umore. In più c'era un medicinale per curare una malattia polmonare ostruttiva cronica. C'è un dettaglio emerso nelle ultime ore riportato dal portale TMZ che si occupa appunto di attori e star di Hollywood nel quale si racconta il ritrovamento del corpo di Perry da parte del suo assistente. Sembrerebbe infatti che il corpo dell'attore sia stato trovato sì nella Yaguzzi, non sia stato tantissimo dentro l'acqua ed infatti si potrebbe pensare che se il suo assistente fosse rientrato prima da alcune commissioni che appunto Perry aveva mandato a fare avrebbe potuto salvare la vita Perry. Questa però è una domanda alla quale non avremo risposta perché con i secconi ma non si va da nessuna parte e se magari quell'assistente fosse rientrato una mezz'ora prima avrebbe anche potuto salvare Matthew Perry. In aggiunta a questo sottolineiamo come la polizia di Los Angeles abbia aperto un'indagine per rapina ed omicidio ai danni di Matthew Perry in quanto questa quanto pare sia una normale pratica standard per i casi di omicidio di alto profilo. Quindi stiamo ancora attendendo ulteriori notizie su questa tragica morte. Molte sono le domande senza risposta e che magari potrebbero trovare una risposta a questa morte che ha toccato tutti i fan di Friends e della Hollywood comunque intorno a Matthew Perry. Soprattutto ci sono diverse domande appunto alle quali potrebbe essere additata la colpa, un malfunzionamento della jacuzzi o magari un attacco di cuore. Diverse sono le cause che potrebbero aver ucciso il nostro Chandler Bing. Sicuramente mancherà tutti quanti e molto probabilmente ne sentiremo la mancanza già con la scomparsa di Friends dalle nostre vite e con il termine della stagione. Insomma è stato un bel addio. Quindi ragazzi ho provato a cercare di parlare di un argomento così delicato. Spero che si faccia chiarezza il più presto possibile ma appena avremo altre novità vi aggiorneremo come sempre. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo di seguirci sul canale Ciacchiazione e in... Trovate tutto in descrizione qui sotto nei link YouTube, Facebook e Instagram. Grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciacchiazione.